Dopo gli esiti positivi dell'anno scorso, riproponete anche quest'anno un corso di formazione politica per i giovani. Qual è il messaggio che volete dare, soprattutto in un momento in cui la politica sta dando veramente un pessimo esempio di sé? Innanzitutto vogliamo avvicinare i giovani ancora alla politica, la formazione non si ferma ma deve continuare e il messaggio che vogliamo lanciare è che le istituzioni hanno bisogno di persone giovani, se le competenti. E' il corso a questa finalità, quella di avvicinare i giovani alla politica. Quest'anno la novità è la collaborazione con il CFP di Nicola Pasini e Massimo Cacciari, cosa hanno in comune queste due scuole? Quest'anno è innanzitutto la continuazione del rapporto con il CFP e Massimo Cacciari ma anche con altre realtà. Soprattutto stiamo organizzando dei collegamenti stream con la Toscana, con la Calabria in modo tale che altri giovani sul territorio nazionale possano partecipare a questi corsi. Quello che ci unisce con Massimo Cacciari è la serietà, il desiderio di fare una buona politica, quello di dare ai giovani anche un prodotto di qualità. Quindi è rivolto a tutti i giovani? È rivolto a tutti i giovani che amano questo paese, a tutti quei giovani che vogliono dare il loro piccolo grande contributo perché questo paese sia sempre migliore. Quali sono i principali temi che affrontate quest'anno? Quest'anno abbiamo diviso sostanzialmente l'incontro in tre grandi capitoli. Primo un aspetto storico e i grandi testimoni della storia politica degli ultimi 40 anni saranno rievocati direttamente dai figli. Quindi i figli raccontano dei padri e questa è una prima novità che si vuole fare in modo che la politica sia dal punto di vista storico sugli esempi, i grandi esempi che stimolano e fanno riflettere i giovani. Poi c'è una parte sull'attualità, cioè lo studio di alcuni grandi problemi che vanno dal tema del debito pubblico al tema dell'immigrazione e da altri temi di grande attualità. E poi abbiamo un modo pratico di fare politica, quindi partecipare con delle iniziative concrete direttamente sul territorio. Ecco, unire queste tre cose, fatti concreti, attualità, aspetti storici è per dare una visione complessiva di quello che può essere la politica, quella politica a seglia. Soprattutto fare in modo che da queste elezioni si possano individuare quei giovani che possono essere veramente i leader di domani. Questa è anche la mia missione. Quando si parte? Si parte a metà ottobre e si va avanti fino alla primavera del 2012.